Il ricordo dei defunti, la cura dei sepolcri e i suffraggi sono testimonianza di fiduciosa speranza radicata nella certezza che la morte non è l'ultima parola sulla sorte umana poiché l'uomo è destinato ad una vita senza limiti che ha la sua radice e il suo compimento in Dio. Così oggi Papa Francesco all'Angelus nel giorno in cui la liturgia ci invita a commemorare i fedeli defunti. Prima della preghiera mariana il Pontefice ha ricordato che l'offerta della celebrazione eucaristica è il miglior aiuto spirituale che possiamo dare alle anime di quanti hanno lasciato questo mondo e che Maria sempre ci accompagna nel nostro pellegrinaggio aiutandoci a non perdere mai di vista la meta ultima della vita che è il Paradiso. Non guardare Signore ha giunto Papa Francesco pensando alla risveglio finale che attende tutti alle tante debolezze di ciascuno nessuno dei tuoi figli vada perduto nel fuoco eterno dell'inferno dove non può esserci più alcun pentimento. Ma oggi siamo chiamati a ricordare tutti ricordare tutti anche quelli che nessuno ricorda. Ricordiamo le vittime delle guerre e delle violenze tanti piccoli del mondo scacciati dalla fama e la miseria. Ricordiamo gli anonimi che ripostano nell'ossario comune. Ricordiamo i fratelli e le sorelle uccissi perché cristiani e quanti hanno sacrificato la vita per servire gli altri. Affidiamo al Signore specialmente quanti ci hanno lasciato nel corso di quest'ultimo anno. Grazie. 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 Grazie a tutti.